sono le 16 6 minuti e 45 secondi negli studi rai di via siago ci ha raggiunto franco buffoni che salutiamo buon pomeriggio buon pomeriggio voi franco buffoni è con noi per una delle nostre conversazioni di fahrenheit riascoltabili lo ricordo in podcast sul nostro sito l'occasione ce la dà l'uscita per marcos i marcos del tredicesimo quaderno italiano di poesia contemporanea uno sguardo quindi sulle scritture più giovani in particolare i sette autori raccolti in questo volume praticamente come se fossero sette silogi tutte raccolte sono sette libri di poesia che noi presentiamo in un unico volume di 400 pagine praticamente quindi è un'operazione che ormai prosegue da 26 anni perché il tredicesimo quaderno ne proponiamo uno ogni due anni e ogni volume contiene sette poeti c'è da dire che quelli che uscirono 26 anni fa oggi sono persone 50 anni e più perché però se si scorre l'elenco dei poeti che in questi 26 anni sono usciti si trovano moltissimi dei poeti più noti oggi in italia dei primi inclusi furono riccardi antonio riccardi stefano dal bianco claudio damiani roberto de die ecco e questi sono tutti autori oggi sui 50 55 anni e poi appunto via via si va ai più giovani la deadline per questo quaderno tredicesimo uscito quest'anno è il 1980 sono tutti autori nati dopo il 1980 e il prossimo quaderno che uscirà tra due anni quindi nel 19 saranno autori nati dall 82 in poi quindi c'è questa deadline che si sposta per gli autori ma non per il curatore che invece invecchia e basta invecchia e basta ma in qualche modo conserva una memoria di questa straordinaria esperienza di diciamo di questo osservatorio sulla scrittura poetica contemporanea e in effetti dalla premessa che firma buffoni si vede anche un in qualche modo un filo rosso che attraversa queste scritture che sono molto diverse tra di loro sicuramente c'è il tema intanto dello spazio che mi sembra la metafora che ha attraversato nella lettura di questi sette libri pur declinato in maniera molto diversa dagli spazi veri e propri luoghi fisici fino appunto a spazi che hanno più a che vedere con una chiave o intimista oppure legati anche a una modalità espressiva particolare anche spazi virtuali perché a un certo punto troviamo skype facebook nella scrittura di una delle poetesse precisamente grazie proprio così io ho cercato un light motive che in qualche modo potesse inanellare queste esperienze peraltro gli autori vengono da varie situazioni molto diverse tra loro il primo in ordine alfabetico agostino cornali è bergamasco poi c'è claudia crocco che è nata a napoli ma ha fatto il dottorato a trento poi c'è antonio lanza che è catanese e ha scritto et napolis su quel centro commerciale a catania il più grande dell'isola poi c'è franca marchi mancinelli che è marchigiana daniele orso che è un medico friulano stefano pini che è di treviglio e jacopo ramonda che viene dal profondo piemonte quindi rappresentano anche provenienze diverse esperienze diverse però hanno l'età che li accomuna io potrei leggere qualche verso di ciascuno di loro per dare l'intonazione di queste sensibilità poetiche agostino cornali ecco a proposito appunto di spazi parla del paesaggio che vede appunto nella zona di bergamo non so niente di un paese circondato dai torrenti e sospeso sopra un fondo valle di fabbriche tessili ponti e scolari che aspettano l'autobus ecco se lo mettiamo a confronto con claudia crocco appunto questa ragazza la più giovane tra l'altro del quaderno e dell'ottantasette ma non la più giovane in assoluto perché nel quaderno precedente il dodicesimo c'era samir galal mohamed che è nato nell'ottantanove ed è tra l'altro di padre egiziano e questo mi permise di profetizzare che non certo nello specifico ma dico in generale ci sarà un grande poeta italiano del ventunesimo secolo figlio di qualcuno che un tempo cercava di lavarci il vetro della macchina e questa è claudia crocco qui finisce il quaderno e non ricordo se ci fu risposta o solo il silenzio di una condivisione stranea non con un cable lei sentiva forse davvero il canto degli ubriachi oppure l'eco di istanti che saranno strappi nella pelle e nei tessuti interni eccitazione e vetro indifferente ecco devo dire che a differenza di quanto non accadesse vent'anni fa la scrittura femminile oggi è molto meno riconoscibile se proprio non si va a vedere difficilmente si intuisce mentre nella mia esperienza la scrittura femminile era perfettamente riconoscibile un tempo non avevi bisogno di guardare il mittente perché ti accorgevi che era una donna che scriveva per contro c'è un fenomeno che ho notato negli ultimi anni c'è una scrittura maschile invece che è molto più genderata uso il termine genderato e che quindi confonde le acque perché perché stanno venendo alla luce cose che sono sempre esistite ma per esempio certe posizioni nei confronti del del maschile del femminile nella scrittura poetica e questa è una cosa molto interessante che queste ultime generazioni mettono mettono in luce e quindi io lo registro come fenomeno ormai sono come un sismografo questo appunto etnapolis di antonio lanza etnapolis insieme a claudia crocco lanza e crocco forse sono quelli che più attraversano anche i tempi del contemporaneo che le restituiscono proprio anche da un punto di vista della scelta dei temi qui ci troviamo certamente in un centro commerciale nel caso di claudia crocco viene citata diciamo nella prefezione anche una serie tv di successo come riferimento esattamente che è black mirror perché lì avevamo a che fare con i social media e qui e qui lanza addirittura inizia con un invito dell'altro dall'altoparlante invitiamo tutto il personale ad ultimare le operazioni di apertura grazie quando questo centro commerciale enorme si apre la domenica e siamo a catania e quindi noi abbiamo noi non siciliani abbiamo un'immagine invece lui è voluto proprio dare questa fotografia della sicilia di oggi la vita poi si attiva con precisa lentezza dentro e fuori negozi la vita è cieca automatica e rompe da gesti meccanici mnemonici minimi quotidiani come la spazzata i numeri a tre o quattro cifre sul registro dei corrispettivi l'avvio dei computer l'accensione delle luci e così via e quindi è una variazione poi si ritorna a un lirismo molto più algido con franca mancinelli poetessa marchigiana puoi appoggiare la testa dove la terra affonda molle nella cuna tra i colli dove si veste d'acqua insegue la bolla di vita tenue il sorriso chiuso nella pelle d'ambra gli animali nell'inverno addormentati nella tana c'è a dire che alcuni tra questi autori hanno già una cifra molto riconoscibile mancinelli per esempio è tra questi come per esempio ha incuriosito molto il comitato di lettura dei quaderni questo medico friulano specialista tra l'altro in medicina d'urgenza daniele orso che scrive queste poesie completamente stragnanti il titolo è la scelta del campione io vorrei leggere qualche riga da questo testo che si intitola l'estate in piscina ma si vede che chi l'ha scritto ha studiato chimica e altre materie scientifiche le estati passate a nuotare nella piscina di cloro e cemento nell'acqua le orecchie gli occhi nel sole lasciarsi affondare toccare il fondo e risalire in superficie ciclicamente con un'abbracciata di solito con uno sforzo a volte di volere invece di riuscire e questo è stato presentato da un altro poeta friulano flavio santi che poi negli ultimi anni è uscito che io in precedenza avevo messo nei quaderni e che attualmente è più noto come narratore si è inventato anche un personaggio un detective friulano molto interessante con daniele orso si va su tematiche anche ambienti forse un po gli antipodi rispetto a crocco e lanza perché torniamo invece anche a dei luoghi forse più legati al silenzio legati anche ad un essere fuori da una dimensione urbana però anche qui diciamo dei momenti di flavio santi rileva come diciamo per questo autore i riferimenti possano essere appunto sicuramente saba sicuramente rabboni sicuramente pasolini ma anche fortini un autore diciamo un po scomparso e anche i cantautori quindi diciamo anche in questo caso si si sente che nella loro formazione oltre alla poesia c'è tutto il cantautorame più alto non solo italiano ma come sempre poesia non è ricerca dell'originalità assoluta ma il fatto di rivivere tutto ciò che si è introiettato in un'ottica di poetica autonoma come per esempio questo stefano pini che invece ci riporta nella pianura padana con questo treviglio viale del partigiano treviglio è una località tra milano in direzione est e qui c'è l'immagine del campo da calcio improvvisato si pensava allora quel che non si poteva dire i termini sepolti per la campagna le vie curve cirgonvallazioni interne e non più la linea dell'infanzia si intuiva il traguardo di un'età segreta nell'erba dei giardini i pali improvvisati e niente traversa le spalle agili sulla schiena e poi a me piace leggere qualche riga di tutti e sette perché giustamente peraltro l'ultimo autore inserito jacopo ramonda torna anche alla prosa poetica quindi si stile ecco giustamente lei graziani dice torna perché questo esperimento da prosa poetica sappiamo da baudelaire tipo eman prose poi in italia abbiamo ormai novantenne giampiero neri però questa prosa poetica si è un po cristallizzata in italia attorno al gruppo gamma che ormai è fatto di cinquantenni come appunto alessandro broggi andrea inglese andrea raus tutti già contenuti in quaderni precedenti questo ha trent'anni questo ha trent'anni e rivive direi a modo suo da questa profonda provincia piemontese viene da savigliano questo questa educazione alla alla prosa dopata ecco a questa prosa che si capisce che è poesia ma in sostanza va a finisce quando finisce la riga tipografica quindi è prosa anna apre lo sportello della lavatrice la vuota trasferendo nel contenuto in una bacinella si dirige verso il balcone che si affaccia sul cortino interno e stende il bucato sui fili ad un tratto le scivola di mano una camicia istintivamente si sporge dalla ringhiera e tende un braccio per cercare di afferrarla al volo guardandola precipitare dal quarto piano per un lasso di tempo che sembra dilatarsi all'infinito e qui chi conosce il vetraio di baudelaire dai pt poema pros ce lo ritrova quindi uno sguardo sulla poesia più contemporanea anche dal punto di vista diciamo di generazione in questo tredicissimo quaderno di marcosi marcos buffoni voi poi seguite diciamo l'iter la vita poetica di questi autori diciamo che una nuova iniziativa proprio di quest'anno dell'editore interlinea è una collana di cui ho la cura che si intitola lira giovani e in questa collana si presentano volumetti singoli però i due autori che sono appena usciti li abbiamo presentati a torino settimana scorsa facevano parte del dodicesimo quaderno quindi un'evoluzione qui si passa al volumetto singolo e quindi già un'autonomia i due autori i primi due autori con cui si inizia questa nuova collana lira giovani di interlinea sono maddalena bergamin che è nata nell'86 e vive a parigi da molti anni ma è di padova e il titolo del suo libro si è l'ultima volta in italia e vorrei leggere qualche verso da maddalena bergamin perché l'idea dell'italia che si ha soprattutto all'estero è un'idea di italia solare e marina e invece maddalena che viene da padova scrive chi ha detto che questo è il paese del mare non sa delle nostre giornate su tangenziali padane della periferia latina malmessa e delle grigie ore che ci separano dalla vista del sole non sa di come sia estranea alla nostra la vita che di noi si racconta e questa è maddalena bergamin e l'altro libro appunto appena uscito in lira in lira giovani di interlinea e pronomi personali di marco corsi che è nato nell'85 e curiosamente dedica una parte del suo libro a una ricostruzione filologica che mi fa piacere fare visto che siamo in rai di quella famosa sigla con cui finivano i programmi televisivi fino agli anni 80 dal 59 dal 54 fino all'86 i programmi televisivi finivano con una spirale e una una musica di sottofondo che era armonia del pianeta saturno le musiche erano di roberto lupi e il grafico era erberto carboni chi è della mia età se ricorda bene queste cose e sergio pugliese luciano sciagli pugliese era il direttore della rai e luciano sciagli musicista che aveva la responsabilità della scelta della sigla ecco questo poeta fa una ricerca filologica su questa sigla che lui non ha mai visto perché lui è nato è nato quando questa sigla ormai era uscita dai palinsesti e mi ha incuriosito molto questa questo interesse verso le radici della della nostra cultura popolare se vogliamo perché quella sigla è nella memoria di tutti gli italiani che hanno diciamo più di 40 anni la seggiola in plastica blu la parete bianca la cassettiera di ferro la porta la voce che dice prego si accomodi la mano che dice prego si accomodi tutto che dice prego si accomodi vedrà che la vita sia giusta non piange la bambola rotta la macchina rotta la lampada rotta la seggiola blu la luce lenta che sfrigo la rotta la vita da sola sia giusta e questo era marco corsi pronomi personali qual è l'impressione che ha leggendo appunto siamo sommersi un po in questo in questo momento dalla poesia contemporanea anche molto bello spaziale da un volume all'altro che cosa la colpisce di più diciamo di queste scritture se c'è un aspetto comune o comunque di forme qualche cosa che può essere messo direi una cultura complessiva che risente molto dell'informatica e di come vivono queste persone peraltro ci sono dentro anch'io perché in questo però io ho memoria di un altro tempo e di un'altra cultura la socialità sono nati qua e per questo vi dico mi sorprende quando si interessano a qualche cosa che appartiene a decenni precedenti che loro non hanno vissuto la socialità il sentimento all'epoca della rivoluzione digitale potremmo dire così d'altronde sa vent'anni fa quando i quaderni appavano per la prima volta imperava McLuhan e si diceva che la scrittura fosse finita oggi va in metropolitana e un qualunque ragazzino non fa che scrivere quindi le cose sono anche molto cambiate bisogna aggiornare il tempo dicevamo molti libri sulla nostra schivania uno riguarda proprio franco buffoni visto che è con noi farei un affondo anche su quella che credo la sua l'ultima l'ultima cosa uscita per l'editore manni si da manni è uscita un'opera teatrale che si intitola persone alla latina come maschere ed è una tragedia greca in chiave moderna modernissima purtroppo perché si parla di un attentato terroristico in un teatro dove il cronista il telecronista dice questi quattro sono morti in modo non grave fino alla rettifica poiché la televisione non può mentire i quattro tornano in vita per pochi secondi perché la rettifica arriva subito ma quei pochi secondi si dilatano per il tempo della rappresentazione quindi per un'ora e mezza in teatro sulla scena questi quattro personaggi che tra loro non si conoscevano se non due che erano in coppia attraverseranno la morte avranno il passaggio il passaggio della morte i quattro personaggi tra l'altro sono una biologa ucraina che vive a parigi da 15 anni è ambientato in francia quest'opera e poi c'è un prete lefevriano che appartiene a una confraternita coperta intitolata dominique venner che era il l'uomo che si suicidò a notre dame quando venne in francia nel 2013 promulgata la legge sui matrimoni gay e gli altri sono appunto una coppia gay che ha avuto un professore di filosofia e un tecnico informatico che hanno avuto due bambini in canada attraverso gestazione per altri è la prima sera che lasciano i due bambini con la babysitter e non faranno ritorno ma in quei pochi istanti che si appunto si dilatano per un'ora e mezza di rappresentazione i dialoghi tra il professore di filosofia che è laico illuminista lievo di lacan e fucol e il prete del fevriano sono dialoghi incandescenti e così pure come il tecnico informatico e la biologa ucraina hanno un'intesa umana assoluta e quindi le coppie si scambiano in questa rappresentazione potrei leggere solo qualche riga dove c'è un passaggio e questi sono degli europei e pensano al genere ai generi noi abbiamo disonne che è femminile in tedesco e maschile in francese le soleil e abbiamo la luna al contrario che è femminile la lune e der monte in tedesco e lo stesso la morte che è femminile in francese ma in tedesco è der tot è altrettanto io adesso non dico i nomi dei personaggi per leggo le parti di seguito perché estrapolo soltanto qualche riga è altrettanto folle piangere perché di qui a cent'anni non vivremo più che piangere perché non vivevamo cent'anni fa ma i nostri bambini vivendo adesso ci stanno aspettando il povero scarabeo che calpestiamo prova lo stesso strazio del gigante che muore io tengo per fermo afferma il folletto che anche le lucertole i moscherini si credano che tutto il mondo sia fatto apposta per uso della nostra specie la morte mi conta fino in fondo mi sta contando insieme a tutti gli altri sei la mia anima animale da passeggio il mio pet residuale ed esercizio come in quell'isola a nord di ortigia chiamata siria per il sole al tramonto terra beata dove in tarda età soltanto si muore per la freccia gentile di appollo in un istante e senza provare dolore ecco qualche altra riga qui è un attacco con una citazione in veneto da zanzotto viens su dragona d'argento maga questa l'amparai con nendi dal casanova di fellini la luna e la morte la morte e la luna che da qui non possiamo neanche intravedere del mondo da tutto come si fa a chiedere ad un mago di salire in cielo la dragona d'argento ad esser femmina mentre in tedesco e maschio del mondo è un dragone d'argento ma è femmina al sole poveri europei come faranno a intendersi con le iconografie fossero solo le iconografie io non ho nulla da imparare da una morte così da questo travestito di lingua romanza con seno finto e scarsi fianchi la morte è un uomo e quando è danza ed è detto scherzosamente freund heim kids gli dice him nell'usignolo almeno so cosa dirgli quando viene la morte che torna in questo dramma di franco buffoni edito da manni in effetti il teatro e anche la poesia insomma forse uno dei ruoli che hanno è fare e fare proprio confrontarsi con con la morte con i fantasmi che lasciano e i fantasmi alle volte sono anche i fantasmi dei dilemmi sociali c'è un fatto particolare di cronaca che ha ispirato questa scrittura franco buffoni oppure diciamo è il nostro presente mediatico è il nostro presente io ho inteso la lezione di elliot e soprattutto di oden fuori discussione per me che peraltro sono anglista di formazione però questa idea di trasporre la tragedia greca alla contemporaneità assoluta quindi c'è la gpa la gestazione per altri c'è il matrimonio gay e c'è e c'è questo questo temore strisciante per l'attentato terroristico che diventa patologico che naturalmente il numero di vittime inferiore a quelle di una normale domenica autostradale però la psicosi è chiaro che è altissima e credo che sarebbe il caso di indagare a fondo questo fenomeno sul piano proprio delle delle ripercussioni psicologiche sulle persone soprattutto le persone giovani soprattutto i bambini franco buffoni grazie per essere stato con noi grazie a voi io ricordo che le nostre conversazioni sono riascoltabili sul sito di fare night fare con la calcentro punto rai punto it